Né Budimir né Ricci, a rubare la scena questa volta non sono le due stelle crotonesi, ma Martella e Capezzi, tanta qualità e quantità, ma due che non ti aspetti alla voce marcatori. Sono loro a strappare la copertina nel post-match di Chiaveri contro Lentella. Loro le firme sui gol che tagliano le gambe genovesi già dopo mezz'ora di gioco. Juric lascia in panchina Stojan e butta nella mischia da subito Palladino. L'ex Parma è in giornata, al pari di Balasa, che al nono pesca Martella dentro l'aria e di rosso-blu sono già avanti. Al quattordicesimo Caputo sfiora di un soffio l'immediato pareggio, poi al venticinquesimo arriverà a doppio calabro. Su una ripartenza Budimir fa il lavoro sporco, Palladino inventa una gemma di assist per Capezzi che da dentro aria fa 2-0. Lentella reagisce e accorcia subito e il ventisettesimo quando Costa Ferreira smarca Caputo, palle e mezzo per Masucci, bravo a spingerla dentro. La gara cala di livello nella ripressa, Lentella spinge, il crotone arretra pericolosamente, Juric se arrabbia viene espulso al settantaquattresimo, ma il risultato non cambierà più. Vince il crotone, meglio di tutti per punti raccolti, l'anno solare a tinte rosso-blu. Ben 72 quelli conquistati. Gli ultimi tre permettono ai Pitagorici di restare in scia del Cagliari, campione d'inverno tra i cadetti e di staccare il Novara di sette passi. Un buon bottino da amministrare con l'anno nuovo quando il campionato dei ragazzi di Juric riprenderà dall'uscita proprio contro i sardi di Rastelli.